La mia serie ed episodi 5 trucchi per iPhone non è solo una delle più apprezzate e più viste qui su YouTube, è anche la serie che mi ha permesso di crescere tantissimo nei primi anni e farmi conoscere da tantissimi nuovi iscritti. Così per il video di oggi ho deciso di portare un super episodio con 20 trucchi, fra i migliori e altri di cui non ho mai parlato prima. L'unico piccolissimo favore che sono qui a chiedervi è quello di lasciare un bel like al video, effettuando anche l'iscrizione al mio canale, ovvero due gesti rapidi e soprattutto gratuiti per voi, ma che mi aiuteranno tantissimo nella mia crescita qui su YouTube. Ora a breve sigla e poi andiamo a scoprire insieme 20 trucchi pazzeschi per il vostro iPhone. E cominciamo subito con il trucco numero uno che riguarda gli screenshot in Safari perché vi voglio far vedere come screenshotare un'intera pagina web. Andiamo quindi ad aprire Safari, mi ritrovo nella home page di Apple, vedete che se scorro verso il basso c'è tutta la pagina e voglio appunto farvi vedere come screenshotare tutta questa pagina. Quindi prendo l'iPhone e vado a fare lo screenshot nel modo classico, ovvero tasto laterale destro più tasto volume in su, sentite lo scatto ed ecco qui lo screenshot che è stato acquisito, ma vedrete subito e immediatamente una differenza perché ci sono due tab in alto, uno si chiama schermo e uno si chiama pagina intera. Quello che dobbiamo fare è tappare proprio su pagina intera e vedrete comparire una colonna al fianco in cui c'è proprio tutta la pagina web di Apple, in questo modo l'avremo screenshotata completamente. Una volta che l'avremo screenshotata, se la vogliamo esportare tutta, ci basterà fare un tab su fine e qui potremo decidere di salvarla come PDF su file ma anche, ed è una novità di iOS 17, anche su foto, quindi crea una vera e propria immagine che finirà nel rullino foto. Proviamo a salvarla proprio su foto, andiamo a riaprire l'album delle fotografie ed ecco qua, la vedete tutta la pagina web di Apple, se scorriamo in basso la potremo vedere tutta ma potremmo anche ingrandirla perché viene fatta comunque ad un'altissima qualità. Piccolo trucco in Safari per fare screenshot meravigliosi. Il trucco numero due riguarda le foto, meglio come effettuare una ricerca nelle foto, quindi vado a richiamare tutto il mio album e mi sposto proprio in cerca. Qui tante volte vi ho fatto vedere come cercare animali, come cercare oggetti, come cercare cieli stellati, ma c'è anche la possibilità di ricercare tutti gli scatti eseguiti da uno specifico dispositivo come ad esempio un altro modello di iPhone magari. Voi vi ricordate di aver scattato una foto con un iPhone 11 e la volete ritrovare? È facilissimo perché ci basterà andare nel campo di ricerca e digitare il modello di iPhone, Apple, iPhone e provo proprio a inserire il numero 11 e vedete che mi compaiono 61 foto scattate da iPhone 11 Pro Max. La cosa bellissima è che potremo selezionarle e poi anche andare ad aggiungere altri campi di ricerca come ad esempio foto scattate nella provincia di Parma, a Marina di Portofino, di un veicolo, testo trovato, insomma sarà possibile amplificare e rendere la ricerca ancora più completa. Ma potete cercare anche altri modelli non solo degli iPhone, se ad esempio io vado a ricercare delle foto che ho scattato con una delle mie Sony, scrivo Sony e boom compaiono tutti i modelli che ho utilizzato per scattare foto proprio di Sony e quindi è un modo facilissimo di ricercare le foto per modello di fotocamera. Il terzo trucco sarà secondo me comodissimo a tutte quelle persone che come me utilizzano spesso lo status non disturbare o uno status di full immersion in cui non è permesso a nessuno di chiamarci ed iPhone in quel caso non suonerà. Con questo trucco vi voglio far vedere come rendere possibile ad un contatto o a più contatti di chiamarci anche quando non disturbare o full immersion sono attivi. La prima cosa che dovrò fare è richiamare l'app telefono e muovermi nel tab contatti e selezionare quel contatto che voglio autorizzare a chiamarmi anche quando sono in modalità non disturbare o in full immersion. Nel mio esempio prendo Apple, questo è semplicemente il numero verde di Apple e vado a fare un tap su modifica e scendo fino a quando non vedete il campo suoneria, ci entriamo e attivate semplicemente avviso emergenze. Vedete che ci dice avviso emergenze? Consente di ricevere chiamate con suoneria e vibrazione da questa persona anche quando la suoneria è silenziosa o quando è attiva una full immersion facciamo un tap su fine, un tap su fine e da questo momento tutte le volte che Apple mi chiamerà io sono magari anche nella modalità non disturbare iPhone suonerà comunque. Per il quarto trucco ho deciso di farvi vedere come inserire in modo molto molto rapido dei numeri all'interno di un testo senza dover passare sempre dall'alfabeto ai numeri e l'alfabeto ai numeri ma semplicemente con un tocco o con due tocchi. Vado quindi a creare una nuova nota che mi servirà da esempio e vi faccio vedere che se teniamo premuto sul tastino di cambio tastiera e andiamo a digitare un numero ad esempio 274 quando rilascio è tornata immediatamente la tastiera alfabetica e quindi ci permette di non dover switchare ogni volta fra testo e numeri. Il secondo modo che funziona però anche con i simboli vado a capo è quello di tenere premuto proprio sul cambio tastiera e muovermi sul numero rilasciando lo inserirà e tornerà già la tastiera alfabetica ma la cosa bellissima è che funziona anche coi simboli ad esempio con l'euro ad esempio col punto interrogativo ad esempio col punto esclamativo e quindi è un modo rivoluzionario molto veloce di interagire coi simboli e i numeri. Per il quinto trucco resto ancorato alla tastiera facendovi vedere come portare la tastiera ad una mano sia per chi utilizza iPhone con la mano destra sia per quelli che lo utilizzano con la mano sinistra. Vado quindi a richiamare note ne creo una nuova sempre da esempio vedete che la tastiera ovviamente è a tutto schermo come da standard ma se volessi portare la tastiera per una mano soprattutto per quella destra faccio una pressione prolungata sul simbolino dell'emoji mi muovo e avete visto che si sposta un pochino verso la destra per renderla utilizzabile anche con una mano veramente molto comodo se rifaccio una pressione prolungata potrò anche impostarlo per chi utilizza con la mano sinistra o semplicemente riportarla a tutto schermo quindi piccolissimo trucchetto ma estremamente comodo. Il trucco numero 6 è l'ultimo che riguarda la tastiera e nel caso specifico vi faccio vedere come inserire dei caratteri speciali con una pressione prolungata vado ad aprire le note creo una nuova nota e provo ad esempio a inserire una e accentata come fare per farlo rapidamente faccio una pressione prolungata sulla e e guardate quante varianti di e mi compaiono nell'elenco c'è la e accentata come altre e che possono servire in altre lingue ma la cosa fenomenale che oltre che funzionare su altri caratteri su altre lettere funziona anche ad esempio sui numeri se quindi passo alla visualizzazione dei numeri e volessi mettere l'uno come primo come prima faccio una pressione prolungata sull'uno e guardate primo e prima ed è quindi un modo molto rapido di inserire simboli e caratteri diversi come anche per esempio il punto interrogativo che se lo volessi mettere capovolto mi basta selezionarlo e voilà l'ho inserito nel testo trucco velocissimo ma estremamente utile ho deciso di dedicare il trucco numero 7 all'app meteo una app che è cresciuta costantemente anno dopo anno andiamola ad aprire qui vedrete il classico layout in cui trovo le previsioni allo stato attuale le previsioni dei prossimi giorni mi posso muovere fino in fondo e vedere tantissimi dati ma circa a metà troverete questa mappa interattiva che riguarda le precipitazioni e che già presente da tempo su ios ci fa vedere in sostanza con un'animazione la situazione delle piogge quello che vi volevo far vedere che se notate bene qui sotto c'è un'iconcina fatta a livelli che se tocco mi permetterà di entrare in altre mappe interattive la prima riguarda la temperatura bellissima da vedere perché i colori mi suggeriscono le varie temperature nelle zone ma posso toccarla ancora e vedere la qualità dell'aria che è limitata solo ad alcuni stati come per fortuna l'italia dove ci indica appunto la qualità dell'aria zona per zona ma la novità è che in ios 17 se tocchiamo l'iconcina c'è anche la situazione dei venti dove con un grafico bellissimo un'animazione bellissima vedremo proprio la situazione dei venti ed è sicuramente comodo per chi sta progettando un viaggio all'aperto il trucco numero 8 è tutto concentrato sull'app calcolatrice che vado immediatamente a richiamare e prova a fare un calcolo 25 per 25 mi restituisce un risultato poi voglio dargli un più e vado a digitare un numero ma mi accorgo di aver sbagliato l'ultimo numero e quindi se vado a fare un tap sulla ci sapete che cancella tutto e mi tocca ricominciare il calcolo dall'inizio quindi come fare per cancellare solo l'ultima cifra o più cifre faccio solo uno swipe sul numero da una parte o dall'altra e mi cancellerà l'ultimo numero permettendomi di risparmiare tantissimo tempo ma c'è un'altra cosa che vi voglio far vedere che riguarda l'app calcolatrice perché forse non tutti sapete che se la mettete in orizzontale questa diventerà scientifica dandoci molte più opzioni dandoci molte più possibilità bello da vedere che ci sono dei trucchetti anche nella calcolatrice per il trucco numero 9 vi voglio far vedere una cosa molto molto interessante che riguarda l'app mappe l'app mappe che è stata aggiornata in ios 17 e che finalmente presenta le mappe offline andiamo innanzitutto a richiamare l'app mappe e proviamo a ricercare un posto che ci interessa io ad esempio voglio provare a ricercare bolzano quindi vado a selezionare bolzano mi fa vedere una panoramica della mappa e guardate sotto c'è un pulsantino che si chiama scarica se lo vado a toccare potrò andare a scegliere l'ampiezza della zona di cui voglio scaricare le mappe offline magari un pochino più quadrata e soprattutto un pochino più indietro per arrivare quasi al confine con l'austria la cosa bellissima è che sotto immediatamente in tempo reale mi dà la dimensione del download che andrà effettuare ios e che terrà localmente sull'iphone quindi mi dà anche la possibilità di sapere quanto occuperà questa mappa offline farò un semplicemente un tap su scarica e partirà il download della mappe questa sarà sempre disponibile anche quando non avrò connettività ed è un trucco secondo me estremamente comodo per tutti i viaggiatori per il trucco numero 10 vi voglio far vedere un modo più intelligente di utilizzare il centro di controllo lo andiamo a richiamare e sapete perfettamente che qua nell'angolo in alto a sinistra c'è tutto quel riquadro che riguarda la connettività la modalità aereo la modalità cellulare il wifi e il bluetooth e ci basta toccare uno di questi pulsantini per attivare quella funzionalità ma se ci faccio una pressione prolungata mi darà più opzioni come ad esempio airdrop da cui potrò selezionare che modalità di airdrop utilizzare anche quella dell'hotspot personale la cosa ancora più intelligente che potrò ancora un'altra volta fare una pressione prolungata su una delle voci come sul bluetooth e mi permetterà di connettermi rapidamente a un dispositivo bluetooth ma ad esempio anche su airdrop mi farà scegliere la modalità di airdrop e così via con tutte le altre funzionalità quindi un modo velocissimo di interagire col centro di controllo il trucco numero 11 resta sul centro di controllo e anche questa è una novità che è arrivata con ios 17 e riguarda i timer perché sempre nel centro di controllo potremo attivare rapidamente un timer per prima cosa verificate di avere il timer nel centro di controllo se non lo avete vi basta aprire le impostazioni scendere a centro di controllo e verificare che timer sia nella parte superiore dell'elenco ma torniamoci per farvi vedere perché una volta che troverete il pulsantino del timer vi basta fare una pressione prolungata e potrete decidere di avviare rapidamente un timer risparmiando tantissimo tempo per il trucco numero 12 ho deciso di farvi vedere come arricchire di informazioni le nostre foto vado a richiamare l'album foto e qui sapete che quando riceviamo ad esempio una foto via whatsapp ma anche via messaggi o attraverso altri sistemi di chat può accadere che la foto perda le informazioni come il luogo di scatto ma anche la data corretta e quindi c'è una modalità intelligentissima per raggiungere queste due informazioni ma anche un'altra voce vado quindi a scegliere una foto nel mio elenco prendo questa delle maldive che ho scattato qualche settimana fa e faccio semplicemente uno swipe verso l'alto e vedete per prima cosa che qui ci dice inserisci una didascalia il nome che inserirò in questo campo sarà utilissimo quando andrò a ricercare quel termine all'interno di tutte le foto se ad esempio scrivo proprio maldive quindi scrivo maldive quando andrò e faccio tap su fine quando andrò a ricercare maldive come termine troverà anche questa foto perché è nelle didascalie quindi è estremamente comodo possiamo anche però regolare la data vedete che c'è il pulsantino azzurro faccio un tap su regola e potrò selezionare un'altra data magari la data esatta in cui so che quella foto è stata scattata e qui sotto più in basso anche l'orario e anche il infuso orario faccio un tap su a nulla perché non voglio modificarla e l'ultima voce aggiungerà anche la posizione mi basta scrivere la posizione della foto ad esempio maldive mi proporrà automaticamente delle location sulla mappa io scelgo maldive guardo nella mappina se giusto per me è giusto e perché lo vedo che nell'oceano indiano e quindi con questo modo avrò fatto delle modifiche importantissime alle informazioni delle mie foto per il trucco numero 13 ho deciso di parlarvi di spotlight per chi non lo conoscesse spotlight è il cerca trova tutto presente nei dispositivi apple da tantissimi anni e che negli ultimi tempi è diventato potentissimo anche su iphone come si richiama spotlight si va in un punto qualsiasi dello schermo si fa uno swipe verso il basso ed eccolo qui che compare con il campo cerca da cui potrò cercare qualsiasi cosa quello che vi voglio far vedere quest'oggi è come attivare semplicemente rapidissimamente delle funzioni dell'iphone solo attraverso spotlight quindi una volta che l'avrò richiamato prova a scrivere aereo e guardate è comparsa la modalità usina aereo che potrò attivare o disattivare semplicemente con un tocco ma posso anche provare ad esempio a ricercare una funzione come il bluetooth guardate è comparsa la voce bluetooth che in questo caso se andrò a spegnere si spegnerà completamente anche se avete un apple watch che sapete che se avete un apple watch quando andate a spegnere resta comunque un po attivo ma c'è anche un'altra possibilità che quella di scrivere full immersion vedete che compare la modalità full immersion che attiva in questo momento ovvero quella non disturbare ma sotto vi farà vedere anche le altre quindi attraverso spotlight attiverete funzionalità rapidissimamente ma anche per il trucco 14 resto ancorato a spotlight perché grazie a spotlight potremo accedere direttamente ad un menu delle impostazioni facendo il solito swipe verso il basso in questo caso vi faccio vedere come raggiungere il menu accessibilità ho iniziato a scriverlo e guardate qua in alto compare l'icona delle impostazioni col nome accessibilità se lo tocco si aprono le impostazioni direttamente in accessibilità ma provo a chiuderlo del tutto per farvi vedere che posso muovermi anche più dentro perché se scrivo tocco guardate compare sempre l'icona delle impostazioni la voce tocco ma anche dove è posizionato nel menu prova a toccarlo e sono direttamente all'interno di tocco ed è comodissimo e mi farà risparmiare anche in questo caso tantissimo tempo per muovermi nei menu per il trucco numero 15 ho deciso di parlarvi di safari e farvi vedere come tradurre completamente una pagina web se non lo conoscete e vedrete quanto utile sarà vado quindi a richiamare safari e mi muovo in un pannello dove ho un sito in una lingua estera in questo caso è in tedesco vedete che il sito è completamente in tedesco come fare per tradurlo vado a toccare semplicemente le due a in basso vedete che compare la voce traduci in italiano in qualche istante tutto il sito verrà tradotto all'italiano compreso anche le pubblicità ma la cosa fantastica che navigando in questo sito noi possiamo anche fare un tap su un altro articolo come ad esempio questo vedete che inizialmente ma proprio per qualche istante è in tedesco dopodiché viene tradotto ancora una volta tutto in italiano quindi un modo semplicissimo per navigare nei siti esteri ma anche per il trucco 16 il resto su safari perché voglio farvi vedere una cosa semplicissima ma che vedrete utilizzerete tantissimo ovvero come chiudere tutti i pannelli in un solo colpo guardate qua io in questo momento ho sei pannelli e magari non mi servono più non voglio più leggerli e al posto che chiuderli uno ad uno toccando la x o facendo uno swipe c'è un modo che mi permette di chiuderli con un semplice età quindi il resto in una pagina di quelle dei pannelli faccio una pressione prolungata sul tastino dei pannelli e vedete che compare la voce chiudi tutti i sei pannelli lo tocco mi chiede conferma ovviamente gli vado a dare conferma e avete visto ha chiuso tutti i pannelli e renderà tutta l'esperienza su safari ancora più veloce il trucco numero 17 l'ultimo che riguarda safari perché forse non lo sapevate ma c'è un modo che mi permette di personalizzare ogni singolo sito web andiamolo a vedere vado a riaprire safari mi trovo all'interno della ricerca di google e vado a toccare ancora una volta le due a in basso e guardate qui c'è una voce che si chiama impostazioni sito web mi compare questa finestrella in cui io posso andare a personalizzare delle impostazioni ma solo per il sito di google ovvero posso scegliere di far sì che ogni volta che apro il sito di google mi venga aperto nella modalità desktop ovvero nella modalità computer quello a schermo più largo avete visto che sotto è già cambiato posso far sì che me lo apra anche automaticamente nella vista lettura e questo è comodo per leggere meglio gli articoli mi chiede in che profilo se ho più profili di safari aprire i link che vado a cliccare qui e poi ci sono anche le autorizzazioni veramente molto comode che riguardano solo quello specifico sito come ad esempio l'utilizzo della fotocamera l'utilizzo del microfono o l'utilizzo della posizione voi sapete che certi siti per darci migliori informazioni a prendere un po dei nostri dati ci chiedono dove sei autorizzami se io vado a toccare ad esempio posizione vedete che mi dà la possibilità di scegliere fra chiedi non consenti e consenti rendendo quindi estremamente personalizzata l'esperienza di navigazione sito per sito e arriviamo così al trucco numero 18 in cui voglio farvi vedere come personalizzare il menu di condivisione cioè quel menu in cui troviamo tutte le app e tutti i servizi per condividere un nostro contenuto io l'esempio ve lo voglio mostrare per una foto quindi vado ad aprire ad esempio questa copertina che riguarda il mio ultimo video di ios 17.3 vado a toccare il tasto di condivisione vedete che oltre le persone che trova via drop o quelle che ho utilizzato di più ci sono anche tutta una serie di app come mail come messaggi come whatsapp come note come diario e io posso personalizzarlo mettendo le app che utilizzo di più quindi mi sposto fino in fondo sulla destra e poi vado a toccare il pulsantino altro e se faccio un tap su modifica queste più in alto saranno quelle sempre presenti che se voglio aggiungere mi basta per esempio toccare il più e vedete che è andata lì sotto ma posso anche decidere con le tre asticelle di riposizionarle come mi aggrada se io volessi aggiungere diario e metterla al primo posto perché lo sto popolando tantissimo da quando arrivato ecco così ho fatto ma posso scegliere anche per le altre ovvero quelle non fissate che non vengano proprio mostrate se ad esempio non voglio che venga mostrato mai tik tok mi basta spegnere l'interruttore fare un tap su fine fare un tap su fine ancora e guardate diario è stata messa al primo posto e tik tok non c'è più quindi un modo comodissimo di personalizzare la nostra esperienza di condivisione il penultimo trucco ovvero il 19 riguarda la personalizzazione delle nostre schermate oma perché ho visto che tantissime persone non conoscono la possibilità di personalizzare modificarle in qualsiasi modo quindi come facciamo in una qualsiasi schermata home del nostro iphone facciamo una pressione prolungata in un punto vuoto e vedete che chiaramente le iconcine widget cominciano a vibrare segno che possiamo modificare ma noi cosa facciamo tocchiamo i tre pallini ovvero quello delle pagine e boom compaiono tutte le nostre schermate oma questo punto potremmo fare diverse cose potremmo innanzitutto togliendo il flag togliere la visualizzazione ovvero questa pagina oma resta ma non sarà più visibile se la voglio riattivare riattiverò il flag un'altra cosa che è possibile fare quando ne disattiviamo una come nel mio esempio vedete l'ultima non è selezionata c'è il pulsantino meno che se tocco mi farà rimuovere completamente quella pagina home sappiate che le app che sono presenti non verranno cancellate ma cancellerà solo la schermata home e l'ultima cosa che possiamo fare sarà anche la possibilità facendo una pressione prolungata di riordinarle a nostro piacimento e rendere ancora più personale le esperienze nelle nostre schermate home il ventesimo e ultimo trucco è una cosa veramente veramente molto semplice ma che se non conoscete diventerà estremamente utile voi sapete che in qualsiasi punto di utilizzo di iphone e toccando i pulsantini del volume verso l'alto aumenteremo il volume e verso il basso lo abbasseremo quello che forse non sapete per evitare di doverlo toccare tante volte per abbassare il volume è che una volta che lo tocchiamo ci basterà prenderlo e da lì potremo regolarlo rapidamente in su e in giù e regolare così in modo ancora più funzionale il volume del nostro iphone piccolo trucchettino ma molto comodo in sostanza questi erano i 20 trucchi che volevo mostrarvi nel video di oggi spero che per la maggior parte di voi siano tutti nuovi e soprattutto che potranno esservi estremamente utili per migliorare la vostra esperienza con iphone quello che mi interessa di più adesso ovviamente è sapere da voi cosa ne pensate dei 20 trucchi cosa ne pensate del mio video quindi vi aspetto i numerosissimi qui sotto nei commenti direi che anche per il video di oggi è davvero tutto ci tenevo solo nel dirvi grazie per essere passati di qui e grazie per il supporto che state continuando a darmi noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale con tantissimi nuovi video un grande saluto da francesco ciao grazie a tutti